Per strada la gente guarda il mio papà come se fosse un attore. Lo fissano quando passa e poi parlano piano piano fra di loro. Non so cosa si dicono, ma forse il mio papà è famoso, anche se non l'ho mai visto al cinema. Forse è famoso perché ha mangiato il cancro e mi sa che è una cosa strana. Una cosa che mica capita a tutti. Allora, quando a qualcuno succede, quello diventa per tutti un eroe. Un guerriero fortissimo!